Noi siamo disponibilissimi a fare i vaccini ma dovremmo essere coinvolti. Fateci vaccinare i nostri pazienti è l'appello dei medici di famiglia che a 5 giorni dal 20 febbraio, data di partenza per la somministrazione della prima dose di vaccino anti-covid agli ultraottantenni marchigiani, chiedono di essere coinvolti dalla Regione nella somministrazione del vaccino. Non siamo stati minimamente informati, lo abbiamo saputo tramite i nostri pazienti, ha affermato Dario Bartolucci, segretario provinciale della FIMG. Il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia e di soli tre luoghi per la somministrazione individuati nella provincia pesarese, a Fano, Pesaro e Urbino, lasciano scoperte una serie di situazioni presentando problematiche, sia per quanto riguarda la difficoltà della prenotazione, ma soprattutto per coloro che non riescono a spostarsi o a deambulare. Abbiamo continue telefonate dai nostri pazienti per sapere se lo debbono fare e noi chiaramente diciamo di sì, soprattutto per quei pazienti anziani che non possono, che sono allettati, che non possono andare chiaramente in questi punti di raccolta. L'informazione dalla regione dice che verranno vaccinati da noi, ma come facciamo? Non abbiamo i vaccini a disposizione, non ci è stato detto niente, quindi rispondiamo che ancora non si sa niente. Se noi vogliamo raggiungere una massa di persone vaccinabili o da vaccinare, quindi siamo noi che possiamo dare questa mano, altrimenti invece che quest'anno le vaccinazioni andranno a finire l'anno prossimo. Un'operazione, quella del piano vaccinale Over 80, che necessita, secondo Bartolucci, di un'organizzazione capillare sul territorio e che sarebbe possibile garantire grazie ai medici di base, con la loro conoscenza diretta dei pazienti. Martedì sera avremo un incontro della segreteria provinciale, nella quale daremo le nostre specifiche, ha spiegato Bartolucci, mentre probabilmente mercoledì ci sarà un incontro dei sindacati con il Servizio Salute Regionale per trovare un'intesa sul coinvolgimento dei medici. La richiesta che presenteremo è relativa all'intera gestione della campagna vaccinale con un sistema misto. Ogni equip medica territoriale, in cui è divisa anche la provincia pesarese in questo modo, potrebbe gestire le prenotazioni suddividendo gli anziani Over 80 da vaccinare negli ambulatori o a domicilio, se invalidi o allettati. Il problema è sapere che tipo di vaccini dovremmo fare. Per la catena del freddo debbono stare a meno 75, per andare a casa di un paziente, poi di un altro. Minimo mezz'ora per paziente, se non di più. Io spero, credo, che ci diano la possibilità di vaccinare i nostri pazienti. Come sempre siamo a disposizione. Non vedo perché in questo caso siamo stati scavalcati.